Nato a Napoli, Corrado Rustici all'inizio degli anni 70 fonda il gruppo dei Cervello. Dopo varie esibizioni live, la band ottiene un contratto discografico con la Dischi Ricordi. E successivamente pubblicano il loro primo e unico album dal titolo Umelos, di cui Rustici è anche produttore. L'album ottiene uno scarso riscontro commerciale tanto che Rustici successivamente lascia la band. Ma continua a collaborare con il fratello al suo nuovo progetto. L'Uno, nel 1974 entra nel gruppo dei Nova, con i quali si trasferisce a Londra. Ottengono un contratto con Arista Records e negli anni successivi pubblicano quattro album. Blink, Vimana, Wings of Love e Sun City. Questo permette a Rustici di conoscere molti artisti e produttori della scena musicale inglese. I lavori dei Nova ottengono un buon successo anche in America. Tanto che Rustici decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Dopo la pubblicazione del loro quarto album, lascia la band e da New York si trasferisce a Los Angeles e successivamente a San Francisco. Dove entra in contatto con la ricca scena musicale. Nel 1976 collabora con Alan Sorrenti. All'inizio degli anni Ottanta. Si interessa di tecniche di produzione. E collabora con vari artisti. Aretha Franklin, George Michael, Whitney Houston, Erby Ancock e altri. Nel 1985 torna in Italia e collabora con altri musicisti. Alla lavorazione dell'album Zucchero and the Randy Jackson Band di Zucchero. Questo segnerà un lungo sodalizio con il cantautore Emiliano. Collabora anche con Loredana Bertè e Renato Zero. Tornato negli Stati Uniti. Partecipa all'album di debutto di Whitney Houston. All'album I Who's I Zooming U di Rita Franklin e a W Ile The City Slips di George Benson Curagli. Arrangiamenti del brano Rispetto di Zucchero. Nel 1987 partecipa al secondo album di Whitney Houston e a No Protection The Jefferson Starship. Sotto la produzione esecutiva e la supervisione di Michele Torpedine produce e arrangia blues e oro incenso e birra di zucchero. Successivamente produce il brano Senza una donna e partecipa in veste di chitarrista e direttore musicale ai vari tour di zucchero compreso il concerto alla Royal Albert Hall di Londra al fianco di Eric Clapton. Sempre per Zucchero collabora alla realizzazione di Miserere e Spirito Divino. Nel 1991 produce e collabora ai testi e alle musiche di alcuni brani del disco Enzo Avitabile, dell'omonimo sassofonista. Nel 1995 pubblica il suo primo lavoro da solista The Artist. Due anni dopo produce l'album Prendere e Lasciare di Francesco De Gregori. Nello stesso anno, grazie a Caterina Caselli, conosce Elisa e decide di tornare con lei in California per lavorare al suo album Desordio Pipes, End Flovers. Sempre nel 1995 produce e suona nell'album Deita Zenda Forza Paris, l'ultimo album di inediti dove compare Andrea Parodi. Nel 1999 produce l'album Blue Sugar di Zucchero, e alcuni brani dell'album Viaggiatore sulla Coda del Tempo di Claudio Baglioni. Nel 2000 produce Serendipiti della premiata Forneria Marconi. Nel 2001 produce il brano Luce di Elisa, che vince il Festival di Sanremo e successivamente il suo album Ten Comesse de San. Nel 2003 firma un contratto come produttore e consulente per la Sugar Music di Caterina Caselli, grazie al quale produce quattro brani dei Negramaro e tre per Andrea Bocelli. Nel 2005 torna a lavorare con i Negramaro per il loro Mentre Tutto Scorre, album che diventerà Disco di Platino. Produce il brano Permission di Giulia Ottonello e collabora con il cantautore Molteni alla stesura del testo nella versione italiana Spezza Mi il Cuore. Nel 2006 produce l'album degli Ameba 4, che nel corso dello stesso anno partecipano al Festival di Sanremo. Nello stesso anno produce l'album Soundtrack 9606 di Elisa, che venderà più di 650.000 copie e sarà uno degli album più venduti dell'anno. Nel 2006 pubblica The Construction of a Postmodern Musician, dove scrive, produce e suona undici tracce con l'intervento di alcuni artisti con cui aveva collaborato come Elisa nel brano Rage and Dust, Giuliano San Giorgi dei Negramaro nel brano Maledette Stelle, Alan Oldsworth nel brano Tantrum to Blind, Paul McCandless dei Oregon nei brani Cento Famous Notes e Spirals of Light e Fabio Properzi degli Ameba 4 nel brano Chiudi gli occhi. Nel 2007 produce l'album La Finestra dei Negramaro che diventa disco di platino. Nel 2007 produce l'album Caterpillar di Elisa versione internazionale dell'album Soundtrack 9606. Nel 2007 produce l'album Ferro e Cartone di Francesco Renga. Terminata la sua collaborazione esclusiva con La Sugar, nel 2007 produce i due brani inediti Niente Paura e Buonanotte all'Italia dell'album Primo Tempo, di Luciano Ligabue, il 12 novembre 2007. Con niente paura, l'immenso Dei Negramaro e Ferro e Cartone di Francesco Renga. Diventa il primo produttore, arrangiatore a conquistare contemporaneamente i primi tre posti della classifica Nielsen. Con tre artisti diversi, nel febbraio 2008 produce il brano Il Centro del Mondo dell'album Secondo Tempo di Luciano Ligabue. Nel settembre 2008 riceve il premio di produttore dell'anno dalla rivista In Sound. Nel febbraio 2010 produce l'album di esordio di Romeus. Nel 2010 produce l'album Arrivederci. Mostro, di Luciano Ligabue, il singolo Un colpo all'anima e l'album. Entrano al primo posto delle classifiche Nielsen e vi rimangono per 13 settimane consecutive. Arrivederci. Mostro, è l'album più venduto del 2010 e diventa disco di Diamante. Nel gennaio del 2011 il brano Luce di Elisa, prodotta e arrangiata da Corrado, viene votata come miglior canzone del decennio in Italia. Il 16 febbraio 2011 produce Il Mare immenso. Certificato disco d'oro, ed è avuto dell'album Il mio universo di Giussi Ferreri. Il 22 marzo 2011 produce l'intero l'album di Noemi. Fatta eccezione per il singolo vuoto a perdere. Rosso Noemi, riedito poi nel 2012 come Rosso Noemi 2012 Edition. Certificato disco d'oro con oltre 55.000 copie vendute. Certificato disco di Platino, sempre per Noemi produce i singoli Odio tutti i cantanti e poi inventi il modo. Nel 2012 Noemi partecipa al Festival di Sanremo 2012 con sono solo parole classificandosi terza. Il singolo, prodotto da Rustici, viene certificato disco di Platino. Corrado Rustici produce anche il singolo successivo in un giorno qualunque. Nell'aprile 2013 produce l'album Come in cielo così in guerra di Cristiano De Andrè. Il 3 settembre 2014 pubblica il CD di Vidi Blats and Bloom Live in Japan. Come Corrado Rustici trio, con Steve Smith, batterista, e Peter John Vettese alle tastiere. Nel novembre 2015 produce Hercules di Virginio. Nel giugno 2016 pubblica l'album da solista AM. In seguito al quale parte un tour italiano. Con ospiti del calibro di Elisa e Zucchero. Sue vecchie conoscenze.